Cresce la paura per il contagio da coronavirus in Italia. Dopo l'allarme dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità, preoccupata per l'improvviso aumento dei casi nel nostro paese, il rischio è che tra i cittadini si scateni una vera e propria psicosi. Basta uno starnuto o un mal di gola per far sprofondare nel terrore le persone. Ultimo giorno di carnevale. Qui in piazza a Campobasso c'è qualcuno che strimpella un po' di musica. Si cerca di ravvivare un po' l'atmosfera tesa delle ultime ore a causa delle notizie che arrivano dal nord Italia per il contagio del coronavirus. Tutto sommato i cittadini di Campobasso però non palesano particolare apprezzione. Chiedono invece a se stessi ma anche agli altri di mantenere il controllo perché la paura spesso fa scherzi peggiori dello stesso virus. No, questa paura enorme non ce l'ho proprio. Adotta qualche precauzione rispetto a... Lavare le mani. Solo l'igiene più approfondita diciamo, magari prima era meno invasiva perché... L'alcol lo usa spesso. È un'igiene che... Però niente mascherine. No, 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 assolutamente no. Questa paura in questo momento... Seguite gli aggiornamenti in tv che ci sono... Sì, 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 seguiamo gli aggiornamenti però... Nessun panico. Questo panico non c'è. Abbiamo questa psicosi, sinceramente, che fa soltanto danni perché la gente sta sui supermercati e sta svaliggiando tutto. E alla fine non c'è nessun risultato concreto, voglio dire, perché chiaramente è inutile fare terrorismo psicologico. Per lei il panico è ingiustificato? Attualmente qua non ce l'abbiamo. No, non lo so. Precauzioni non ne usa? E che precauzioni ne usa? Le mani le lava spesso, 40 secondi. Questa sarebbe la routine normale, lavarsi le mani. Se ci diranno quello che dobbiamo fare, lo faremo e quindi ci adatteremo alla situazione. Ma avere paura no, assolutamente. Di quando abbiamo paura? Che precauzioni sta adottando? Normali norme igieniche e non andare in posti molto affollati, purtroppo. Lei ha paura del coronavirus? Veramente no. Non adotta nessuna precauzione in particolare in questi giorni? No, anche perché stiamo qui, quindi non è che ci muoviamo, non andiamo fuori, per cui penso che Campobasso sia sicura. Io veramente sono di ripa limosani. Quindi spero di essere sicura, però io sinceramente... Panico no? No, assolutamente. Certo che ho paura. Quindi che precauzioni sta adottando? Niente, di lavarmi spesso le mani, che già facevo prima. Adesso un po' di più? Molto più spesso e con la mucchina. Mascherine però no? No, no, per adesso no. Anche se ho chiesto in farmacia non ne hanno. Ma oddio, paura, paura no. Però naturalmente sono un pochetto preoccupato, quantomeno cerco di fare le cose, insomma. Con una certa... E' uno di coloro che è stato in farmacia a fare la fila per le mascherine, il gel? No, 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 non sono andato. Come dicevo prima, insomma, ripeto, sono preoccupato sì, ma non a questo punto di andare a prendere la mascherina, la cosa. Anzi, no. Dottore, non mascherine ha scritto. Quindi c'è paura, c'è all'era? Allora, la paura c'è ed è tanta, anche perché i mezzi di informazione hanno fatto un'opera incomiabile, però non tutti i cittadini, diciamo così, reagiscono allo stesso modo. Quindi il fatto che l'Italia sia stata investita direttamente in questa situazione ha scatenato del panico, è inutile nasconderlo. Però bisogna un attimino star calmi, ragionare, fare le cose giuste, quindi seguire quelle che sono le indicazioni. La prima cosa, le mascherine servono per di più ai malati. Noi stiamo cercando di fare un'opera di tranquillizzazione e di chiarificazione, quindi dire ai pazienti che, per esempio, non esiste solo la mucchina come disinfettante, ma ne esistono altre migliaia che voi non conoscete, ma che potete tranquillamente utilizzare con lo stesso risultato, anzi, forse a volte anche con risultati migliori. Ma dico solamente di star calmi, tranquilli e sicuramente, insomma, far tutte le cose che il Ministero della Salute ha detto e nulla di più. Però un po' di paura, un bel po' di paura c'è stata in questi giorni. Ma come dicono gli esperti, è anche vero che siamo in un picco influenzale, quindi nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di normale influenza stagionale. E certo è che la cosa da fare è non intasare gli ospedali e creare caos. Chiamare invece i numeri disposti dalla Regione Molise per tutte le informazioni che ci riguardano, e cioè lo 0874 31 30 00 oppure lo 0874 40 90 00.